Io devo chiedere subito a Becchi, difensore, avvocato difensore del popolo italiano, ma da chi ci deve difendere Conte? Ma ci deve difendere dallo spread per esempio, dai risparmi che non abbiamo più. Io già oggi, stasera, non sono riuscito a mangiare perché essendo salito così tanto lo spread, mia moglie mi ha soltanto fatto un piatto di... Mi ha dato soltanto una minestra riscaldata perché non c'era più la possibilità di avere il secondo. Poi nel pomeriggio mi ha chiamato la banca per dirmi d'improvviso che io risparmi non ne avevo più e mia moglie si è molto allarmata. Poi è successa la questione addirittura del mutuo e a questo punto mia figlia si è buttata quasi giù dalla finestra, per fortuna che stava al primo piano. Insomma, ecco, è certo che la situazione è drammatica. Direttore, se vuole un prestito non venga da me. La situazione è estremamente drammatica e probabilmente non avrò più, quando esco di qui, l'autista che mi porta a casa e dovrò andare a casa a Genova, sono a Genova, non a Roma, a piedi. E dove ci saranno, dove sarò affrontato da non so chi, ecco, da operai che sono in sciopero per il nuovo governo di destra, di estrema destra. Perché questo è un governo chiaramente caratterizzato dall'estrema destra, come ha detto quello che ha chiamato prima. Non avete capito un tubo. Quello che sta avvenendo è una trasformazione epocale. Non esiste più la differenza tra destra e sinistra. È finita. L'alternativa è tra sovralismo da una parte e mondialismo dall'alto. E a noi abbiamo adesso certamente un avvocato difensore del popolo italiano, per la prima volta, non so quando, per la prima volta centrale di questo governo. Non saranno i Dictac dell'Europa, non sarà Monti, non sarà la Banca Centrale Europea, ma sarà il popolo italiano.